L'E-Line S.P.A. è ora rappresentata da Wyatt, Wheeler, Ellermann, Tetlow e Brown. E più specificamente da Andrew Beckley. Bravo! Sì! Complimenti, Andrew! Sì! Bravo! Non so come ringraziarti, Piero. La tua fiducia nelle mie capacità. Cosa hai fatto sulla fronte? Andy, in questa stanza siamo tutti i tuoi amici. Ho smarrito un ricorso importante. Questa è la loro versione. Abbiamo parlato a lungo del tuo futuro e crediamo che per il grande rispetto che abbiamo per te, dobbiamo essere sinceri fino in fondo. Scusate, mi state licenziando? Accetto. Signore, non sarebbe più a suo agio in una stanza per le ricerche? No. Forse lei sarebbe più a suo agio. Beckett, come va? Avvocato. Hai trovato un difensore? Verranno dette delle cose al processo che per voi saranno dure da accettare. Voglio sapere tutto sulla vita privata di Andy, a quali gruppi di pervertiti appartiene segretamente. Non ho cresciuto i miei figli perché venissero mandati in terza classe. Andrew Beckett è il genere d'avvocato che mette fuori posto documenti importanti. Sono un avvocato eccellente. Andrew Beckett sta morendo. Lei rimase colpito dal lavoro di Andrew Beckett. Andrew Beckett è arrabbiato. Quale forza potente lo ha convinto a cambiare idea? E vuole che qualcuno paghi. Top X. Amo la legge. Denzel Washington. Lei è o no un gay? Obiezioni. In una storia sulla nostra vita. Mamma, oggi è un grande giorno. Le nostre paure. Andy ha portato l'AIDS nei nostri uffici. E la nostra umanità. Odio questo processo. Philadelphia. Da quanti avvocati sei andato prima di me? Nove. Oggi che è northern. È un grandeبد. Grazie.